È stato abbattuto oggi il grande edificio rosso ubicato in via Santoni, nei pressi dell'incrocio con Massone, da tutti conosciuto come Casa Maule. Le sue condizioni erano ormai fatiscenti e non più tardi dello scorso anno erano intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza al tetto, su sollecitazioni di alcuni cittadini che transitavano nelle vicinanze. Da molti anni era disabitato, ma gli arcensi di una certa età ricorderanno che al pieno terra trovava posto un bar con all'esterno i tavolini e un pergolato. Dove ora ci sono solo macerie, nei prossimi anni la famiglia Ricci, proprietaria dell'immobile, costruirà un nuovo edificio.